Musica Mercoledì 23 maggio, bentrovati con il TGL News. In primo piano il gravissimo incidente stradale avvenuto ieri a Caorso, lungo la strada provinciale numero 10. Per cause ancora da accertare, infatti una donna alla guida di una utilitaria ha perso il controllo del proprio mezzo, andandosi a schiantare contro un albero al fianco della carreggiata, tempestivamente sono giunti sul posto i soccorritori, ma vista la gravità delle condizioni della ferita si è optato per l'invio dell'elicottero del 118 di Parma che ha prelevato l'automobilista per poi condurla all'ospedale maggiore. Cambiamo decisamente argomento parlando di Piacentini, in giro per il mondo, Anolini quindi tipica specialità di casa nostra nella terra dei canguri, non proprio quelli canonici ma un'interessante rivisitazione australiana ad opera di Massimo Speroni, nativo di Roseto degli Abruzzi ma piacentino di adozione, diventato cuoco, ha spiegato alla redazione di Tele Libertà in un collegamento via Skype la sua fortunata esperienza proprio in Australia dove le sue varianti sulla tradizione piacentina stanno riscutendo parecchio successo. La sua intervista completa la potete trovare sul nostro sito liberta.it Il gran giorno è arrivato, questa sera dalle 20.30 il Piacenza sarà di scena alla Riviera delle Palme per la sfida di ritorno con la San Benedettese valevole per gli ottavi di finale dei play-off di Serie C, gara che sancirà il vervetto definitivo dopo la sfida di andata che ha visto i bancorossi prevalere con il risultato di 2-1 in rimonta. I marchigiani sono costretti questa sera alla vittoria per assicurarsi il passaggio del turno mentre un eventuale pareggio spallancherebbe le porte ai quarti di finale proprio a pesenti e compagni. Sempre a proposito di calcio, mancano pochi giorni al fischio d'inizio che avverrà venerdì primo giugno dell'European Youth Cup, torneo della solidarietà che porterà allo stadio Garilli, quindi allo stadio del Piacenza Calcio, alcune tra le più importanti realtà di calcio giovanile d'Europa. La competizione organizzata dalla Società di Eventi Sportivi European Youth Cup in collaborazione con l'Associazione Uniti per la Solidarietà di Lodi è patrocinato dal Comune di Piacenza, ha il supporto di Radio 105 e Striscia la Notizia. Nei giorni scorsi una delegazione di organizzatori è stata ospite proprio negli studi di Bedeset per promuovere il torneo. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 13.15. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS